Bene ragazzi, per quelli che mi conoscono già su TikTok, voi sapete che sta per arrivare un Alfa Romeo Spider del 1985 che probabilmente prenderà il posto di tutte le macchine qui sul ponte per un bel po' di tempo dobbiamo pittare un paio di cose, dobbiamo mettere il motore in marcia e tanto altro quindi prima che arriva, penso settimana prossima perché in realtà è già pronta per essere presa allora inizieremo a fare quei lavoretti che ho continuato a posporre, posponare per gli ultimi giorni in questo caso devo cambiare i freni questa M3 ha i freni in carboceramica, carboceramici non so come si dice che ogni volta che i freni cicolano, quindi ogni volta che passo in giro e la uso tutti i giorni in sta macchina sembra uno zingaro e quindi dobbiamo cambiarli e metterci diciamo i freni normali che sono questi qua, già ce li avevamo, non li abbiamo mai usati perché noi giravamo con quelli sportivi e adesso li cambiamo iniziamo a quello davanti, togliamo la ruota e iniziamo a smontare tutto, metterò un timelapse eccomi qui che inizio a staccare la ruota, 5 bulloni tranquilli si mette via secondo step ragazzi è levare questa clip qua e poi dietro abbiamo due cappe di plastica queste che dobbiamo levare con due chiavette a brucola che ci permettono poi di staccare il freno e cambiare le pasticche, io farò un timelapse, è molto noioso però questo è molto facile fare così, questo l'ho già staccato e possiamo passare poi al dietro alla fine ho dovuto svitare sia le brucole della pinza ma anche le due viti 16 che hanno il supporto della pinza che poi mi hanno permesso di levare tutto quanto comunque ragazzi abbiamo scoperto perché c'era cicolio, innanzitutto il padding posteriore non esiste più se guardate qui questo è il padding e questo non esiste più che aiuta e numero 2 ragazzi, cioè il freno era quasi andato, c'eravamo quasi quindi meno male che l'abbiamo cambiato ragazzi dopo aver utilizzato questo tool qua che praticamente girando questo allarga le pinze ho rimesso le nuove pasticche con un po' di pastella qua e ho rinfilato questo dentro ora mi vedrete io che riavvito e in teoria abbiamo messo il primo freno allargata la pinza però può entrare tutto perfettamente e si riavvita tranquillamente passato all'altro passo all'altro e qui ragazzi mi sono fregato da solo mentre prima ho staccato prima le pinze e poi proprio il supporto qui ho staccato tutto in abbotta, mi vedete usare adesso quel tool lì per allargare che poi però si è incastrato perché il supporto stava di mezzo quindi ho dovuto rimettere tutto quanto di nuovo sul supporto e ricollegarlo staccare la pinza e poi utilizzare il tool qui adesso mi vedete rimettere il disco che noterete ci ho messo un po' di tempo perché non avevo le viti per bloccarlo e quindi continuava a muoversi quelle viti non sono diciamo obbligatorie, non servono per forza servono sicuramente per l'installazione poi quando metti la ruota si rileva tutto se hai fatto un buon lavoro mentre siamo in live qui su altre app ragazzi abbiamo finito le due ruote davanti ho appena controllato le ruote dietro abbiamo ancora i freni quelli da corsa ma diciamo penso che il cigolio principale veniva dai freni davanti che erano quasi andati quindi è buono che li abbiamo cambiati a testarla la testerò più avanti ma la ruota gira, a frenare ho frenato prima con la mano quindi siamo contenti e si va avanti se vi piace quello che faccio lasciate subscribe se avete domande lasciate i commenti e come questo qui potrebbe nascerci un video